allora ci tenevo a salutare anna maria che è la nonna di edoardo nonché il miglior amico dell'asilo ma anche adesso che sono a scuola anche se li hanno divisi ma è il miglior amico di di mauro lui quando vuole vedere qualcuno chiede sempre di edoardo siccome siamo stati al compleanno diedo appunto la settimana scorsa e la signora anna mi ha detto che mi segue sul canale io non me l'aspettavo anche perché penso sempre che quelli che mi conoscono non sappiano che io ho il canale io non lo dico mai non mi piace dire io ho il canale youtube seguimi no non mi piace proprio quindi quando mi dicono che mi seguono sul canale io mamma mia mi sprofonderei ho vergogna cioè non non so spiegarvi comunque anna maria io la ringrazio tanto perché mi segue e volevo mandare un grosso bacio e niente le sue torte sono fantastiche perché al compleanno due o tre torte le ha fatte lei mamma mia che buona ha fatto la crostata fantastica ha fatto una torta con non so che base fosse comunque c'erano fragole e panna montata era deliziosa complimenti davvero niente per adesso chiudo qua e vediamo se puoi continuare con le decorazioni autunnali se riesco perché sta durando lo sto facendo in diversi giorni cerco di mettere il video tutto insieme altrimenti poi è un casino direi che è ora di togliere quella primaverile permettere questa che ho appena terminato vediamo come sta oh ecco cosa ne dite secondo me con il legno scuro dietro ci sta benissimo allora adesso andiamo a decorare questo vassoio che è quello che vi ho fatto vedere che mi ha regalato mia mamma che abbiamo preso da teddy allora qua non andrò incollare nulla perché ci tengo a vediamo se riesco eccoci qua allontanare un po ci tengo a togliere poi tutto in autunno per poi fare una bella decorazione per natale e questo andrà bene poi anche per la primavera perché basta cambiare la decorazione interna e quindi qua non andrò ad incollare nulla allora non so ne ancora come farlo sicuramente foglie e castagne che abbiamo raccolto fuori dalla scuola io e mauro e poi c'è anche questa zucca che avevo fatto io l'anno scorso magari vi lascio il link sotto per arrivare al video del tutorial se vi interessa ne avevo fatte due una l'ho regalata una mia amica però non so se metterci quasi quasi ce la metto dentro ma devo ancora vedere bene come commettere le cose adesso vado un po così se le appoggio proprio vediamo anche un po più chiare giusto proprio anche un po buttate dentro così sto pensando che potremmo mettere siccome ho allora candele sull'arancia momentaneamente no non ne ho a parte queste qua della yankee magari boh vediamo se metterla dentro magari qualche tea light così poi andremo accendere quando lì sul fuoco secondo me bellissimo poi le candele fanno sempre una bellissima atmosfera io le adoro c'era anche qualche foglione a verde eccole qua perché voglio proprio anche questa staccare un po non so se si vede bene andiamo provare a metterci qualche castagnetta proprio così e buttate dentro proprio una cosa alla buona mi piacciono le cose un po rustiche adesso provo a prendere qualche tea light e vediamo come sistemarlo ecco qua allora spostato la yankee di qua dopo andrò aprirla qua due tea light e poi i miei sono andati sul monte e ho chiesto se mi trovavano magari qualche ramo con attaccato qualche riccio qualche riccio di castagna magari gli metto dentro anche quelli poi intanto lo metto la sul fuoco vado a togliere le cose la primaverili tolgo tutto da una pulita e lì in mezzo vado a mettere questa composizione guardate cosa ne dite per ora ho messo le lucine che ho sempre avuto qua tutto l'anno non le ho sempre accese però per ora ci ho messo dentro queste così e poi ovviamente quando accendono le candele magari spengo le lucine cercherò di allontanare un po le candeline e questo è così adesso lì avevo la lanterna bianca e l'ho presa così toglierò quello che avevo dentro ci metterò un po di foglie un po di castagne e lucine anche lì e andiamo a fare anche quello allora ho provato a mettere le foglie però siccome non stanno c'è non riempiono tantissimo stavo pensando di provare a vedere se riesco ad incollare qua in corrispondenza delle lucine vediamo se qua niente comunque vabbè ho questo filare di lucine corto piccolino con le batterie che sono lì e volevo provare appunto incollare qua le foglioline tanto proprio una puntina di colla in modo poi da poterle togliere quando non mi serviranno più per vedere se magari facendo così riesco a dare un po più volume all'interno adesso proviamo un attimo insieme allora proviamoci ci metto proprio un pochino di colla qui e vediamo è proprio appena appena aspettiamo che si asciughi un attimino soffio così si raffredda prima vediamo eh però queste si dai carina secondo me bellissima l'idea grazie a tutti ecco la terminata ma veramente tre minuti impiegato a farla adesso vediamo come sta cosa dite dai secondo me è stata una bella idea anche perché vedete che le foglie così restano un po che sollevate oltre che illuminate secondo me ci sta bene guardiamo nell'insieme sì mi piace bello mi faccio i complimenti da sola ecco calcolate che poi magari la prendo delle candele un po più alte da mettere adesso dentro quelle lì ma va bene così bello mi piace ah ecco poi non vi ho fatto vedere la mia lampada di cera stupenda che io adoro questa che è tantissimi anni che ce l'ho perché le vendevo io in negozio proprio fatta tutta completamente di cera dentro c'è la lampadina risparmio energetico ed è sul giallo e se ve la faccio vedere allora però volevo spegnere le altre luci giusto per farvi vedere che bello l'effetto no guardate mi piace un sacco da proprio senso di autunno di adesso abc accesa anche quella proviamo a spegnere scusate se vi faccio ecco questo questa atmosfera che piace a me mi sa che quella andrò a toglierla non mi piace proprio lì solo che è della berchela mio merito piace tantissimo ma io vorrei togliere da lì non mi piace magari lì farci ancora qualcosa non lo so comunque mi piace tantissimo voi cosa dite ecco la che non vi ho fatto vedere ho messo due scarpiere ci stavano perfette perché quando arrivano i bambini da scuola almeno metto lì le loro scarpine hanno subito le ciabattine a disposizione e ne ho approfittato per mettere sopra il diffusore di essenze ecco anche la adesso vado a mettere una candelina lì dentro l'accendiamo e cambio il fiocco perché rosa e direi di mettere un cordoncino giusto per stare sempre in tema autunno cosa dite ho altri lavoretti da fare però pian piano perché ho da prendere un po di cose anche lì fuori sulla cassa panca adesso c'è una decorazione primaverile e anche fuori dalla porta e se vi faccio vedere ce n'è un'altra sempre primaverile vedete questo tutto sul rosa devo cambiare qua andrò a metterci qualcos'altro non so ancora cosa e qua vabbè questa l'avete già vista mi piace un sacco sta piovendo mi sono reso conto adesso piove poverino mio amice senza ombrello ecco qua il mio amice mauro è questa da togliere anche lei e fare qualcosa di autunnale anche qua vediamo allora volevo farvi vedere allora ho messo un cordoncino niente di che di corda proprio così e la candelina però questo ce l'avevo la con i candelieri rosa in legno e ho provato metterlo qua cavolo sembra fatto su misura cioè davvero non l'ho tagliato apposta non l'ho ritoccato era così ho detto provo a metterlo lì secondo me ci sta benissimo il legno col bianco a me piace tantissimo con sotto la scarpiera bianca e così mi piace un sacco anche questo angolino l'unica cosa è quella presa lì che non mi piace vorrei prendere quelli che vanno dentro ma si piegano così in modo da che non esce troppo qua però mi piace tantissimo nel complesso mi piace proprio tanto guardate così mi sa che la preghiera la rimetto qua perché noi abbiamo una preghiera in latino che teniamo sempre la rimetto o lì o qui perché mi sembra un po vuoto adesso provo eccola lì non lo so pensavo magari di riscriverla ma cambiare lo sfondo magari scriverla su un fondo giallo o arancio magari con la scritta o gialla o bianca per cambiare perché lì l'avevo fatta sul verde per richiamarla cornice però visto che adesso sto facendo tutto sull'arancio adesso vedo se se ho voglia di cambiare farla sul sull'arancio tanto ci vuole un attimo comunque questo per ora il risultato finale e poi pian piano faremo le altre cose allora qua ho preso vi ricordate quel piatto che avevo qua sul rosa in vetro non mi piaceva dato una verniciata proprio un po così col bianco e ho tolto le candele i fiorellini rosa la ghiaietta tutte le cose primaverili e adesso andiamo a fare una veloce composizione ma anche perché è una cosa proprio messa qua così nel senso che ho ordinato su amazon ieri dei pacchettini con dentro zucche ghiande foglioline così quindi sto aspettando che mi arrivino ma intanto volevo proprio cambiare perché non avevo voglia di lasciare le cose primaverili allora mi hanno regalato mi hanno appena portato a casa i miei genitori questi melograni che gli sono stati regalati e quindi ho pensato di provare a fare qualcosa con questi si proprio buttata lì così e diciamo magari qua l'altra zucchettina ecco queste sono zucche che avevo già comprato l'anno scorso non so se ve li ricordate e qua ho ancora alcuni ricci di castagna che mi ha portato i miei dalla montagna poi oggi me ne porteranno altri spero così allora sono in bagno perché voglio andare a togliere anche qua ovviamente le salviette questi sono i colori che usiamo in primavera estate sul blu turchese il verde così voglio andare a toglierli e sostituirli con del rosa antico del marrone beggiolino quindi anche qua poi qua dovrò iniziare a togliere queste roselline sia di qua che queste sono le salviette che ho preparato da cambiare che qui non so ancora cosa ci metterò però intanto le tolgo perché devo metterle via per sono le cose della primavera quindi andrò a togliere poi vedrò con cosa sostituire intanto toglierò il vasetto e poi vedrò intanto vado a togliere le salviette allora ecco qua vedete che ho cambiato ho tolto tutto il blu il turchese così sono andata a cambiare anche le salviette qua lì e qua io tengo quello che uso per pulire per asciugare il bagno cioè per asciugare il bagno e va lì perché la uso solo per quello e sono queste qua piccoline che sono poi in teoria sarebbero quelle degli ospiti ma siccome noi non le usiamo le tengo qua per asciugare il lavandino e così ecco e ho messo questa piantina grassa che mi aveva regalato giorgia e qua ho sempre il mio gel alla lavanda buonissimo che sto usando proprio con parsimonia perché mi piace veramente tantissimo che mi ha regalato ve l'avevo già fatto vedere la mari grazie mari mi piace veramente tantissimo cioè lo ne uso talmente poco però mi sa che ne userò un po di più perché è buonissimo davvero solo che mi spiace finirlo cavolo è buonissimo l'ha provato anche glielo ho fatto vedere anche mia sorella l'ho fatto provare piace tanto anche a lei niente per ora qua è tutto perché poi dovrò ancora fare dei cambiamenti ecco qua ho messo le lime tutte queste cose qua ma la cassettina c'era già ho solo messo dentro un bicchierino qua tengo i detersivi della lavatrice l'ammorbidente e basta per ora è tutto adesso vado a prendere le quali li porto giù insieme le altre cose della primavera e niente vediamo se riesco a mettermi a meno un po di smalto adesso un attimo che voglio salutare una persona vediamo finalmente di riuscire a cambiare questo fatto con i ricci veri trovati in montagna dai miei genitori bassissimo costo direi che è carino dai ecco direi che le nostre decorazioni le abbiamo terminate e io vi seruto e ci vediamo il prossimo video ciao